Per sicurezza non si intende soltanto quello che è il problema degli scippi, dei furti, però si intende anche quello che è il problema delle calamità naturali, come vengono gestite. In questi giorni uno degli argomenti che va più sui giornali, sui social, è come è stato affrontato quello che è il problema delle piogge che ci sono state che hanno provocato la piena del tamaro. Sappiamo benissimo che già si è subito un'alluvione molti anni fa e con parecchi danni. È stata gestita in malo modo per quelle che sono state le informazioni che sono state date dal sindaco, perché va bene utilizzare Facebook per dire sono qui, sto badando alla piena, sto guardando se sale, se scende, però comunque ci sono delle persone che si sono ritrovate con la cantina lagata, ci sono delle persone che si sono ritrovate con i propri figli a scuola, dove era stato detto che i bambini potevano tranquillamente andare a scuola e poi a mezzogiorno invece sono stati richiamati questi genitori dicendo di andare a prendere i figli. Questa è una cosa che a mio avviso non va bene. Alla prossima